Il Cus Unime scrive una delle più importanti pagine della storia della pallanuoto messinese, conquistando una storica promozione in Serie A2. I peloritani guidati dal tecnico Sergio Naccari hanno battuto ieri sera il Cus Palermo-Carol di Giampiero Occhione con il punteggio di 8 a 14, vincendo anche gara 2 della finale dei play-off alla piscina olimpionica di Palermo, centrando la ventesima vittoria stagionale in 20 partite e chiudendo il torneo con lo scettro di miglior attacco e miglior difesa. Match in equilibrio fino al secondo quarto di gara, con il risultato di 7 a 7, fino al break decisivo del team peloritano che con un parziale di 0 a 5 ha messo il sigillo sull'incontro. Grande prova della compagine messinese con il capitano Raffaele Cusmano, autore di un pregevole poker, le doppiette di Francesco Cama, Cesare Russo, Andrea Condemi e dello slovacco Samuel Balaz, l'eredi di Daniele Bonanzinga e Giorgio Ambrosini. Per i pareluitani invece assegno l'ungherese Attila Krinses per quattro volte, poi Mattarella con una tripletta e D'Aleo. È stato il trionfo di un'autentica corazzata, di un tecnico come Sergio Naccari che giorno dopo giorno si è rivelato sempre più pragmatico e funzionale al progetto e di una società solida e forte come poche, in grado di attuare una progettazione pluriennale importante. Messina, finalmente, ha un valido motivo per tornare a gioire, grazie allo sport.